La Capitanata ancora una volta al centro dell'endemico fenomeno dei reati predatori nelle aree rurali. I carabinieri delle compagnie di Cerignola e San Giovanni Rotondo nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio hanno complessivamente tratto in arresto otto persone ritenute responsabili di una serie di furti di grossi quantitativi di olive. Nel corso del primo episodio, verificatosi nei primi giorni dell'anno, i carabinieri della stazione di Cerignola e dell'undicesimo reggimento Puglia hanno sorpreso tre soggetti poi tradotti agli arresti domiciliari in piena flagranza di reato commesso in un terreno privato di proprietà di un cerignolano durante il quale sono stati danneggiati numerosi alberi di olivo. Analoga vicenda è accaduta il giorno successivo in un terreno privato in località Vecchia Napoli di Cerignola dove i carabinieri della stazione radiomobile hanno individuato ulteriori tre soggetti poi arrestati intenti ad asportare un ingente quantitativo di olive. Stesso reato e stesse modalità sono stati accertati anche in località Costarelle di San Giovanni Rotondo dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza durante un servizio perlustrativo due soggetti di San Severo poi tradotti agli arresti domiciliari. L'area furtiva complessivamente quantificata in più di quattro quintali di olive è stata restituita dai militari dell'arma ai legittimi proprietari.